L'associazione Il Sorriso On Luce e insieme trovo anche Faustina Bertollo dell'associazione Crescere. Tutti forse per delle avventure, ma delle avventure di che genere? Facciamocelo spiegare da loro, anzi prima vorrei che mi introducesse proprio Faustina, perché stai nel mezzo e hai tante belle persone intorno che forse faranno crescere dei ragazzi. Allora, questo è un centro didattico ricreativo che si chiamerà Susi Milla, stasera c'è la presentazione ufficiale e poi le attività partiranno da gennaio. Nasce da un'idea nata in palestra, io ho conosciuto lei l'anno scorso, quindi parlando, lei fa parte di un'altra associazione, che è l'associazione nuovamente, parlando così abbiamo detto, ah cosa facciamo, facciamo qualcosa insieme, è venuta questa idea di fare questo centro didattico ricreativo per bambini con disabilità intellettivo-cognitive e comportamentali. Poi ovviamente le cose evolvono piano piano, perché insomma tra trovare il posto, trovare la situazione giusta, le risorse economiche e tutto è passato un anno praticamente, però come si suol dire i sogni vanno coltivati e alla fine il sogno si realizza e quindi stasera siamo qui proprio per presentare il nostro sogno, non solo il mio e il suo, ma il sogno di tutti, che è quello appunto di aver creato questo centro. Ma la cosa più importante non è tanto la finalità del centro, è quello di aver creato un'aggregazione, una rete di associazioni, tutti con lo stesso scopo, lavorare col volontariato e le associazioni per un bene comune, cioè per la società e quindi per far sì appunto che l'integrazione anche dei bambini avvenga in una società più civile. Fuori c'è scritto il sorriso all'USA, allora vado subito dalla Presidente. Presidente, quindi questo inizio di avventura ma che è una condivisione tra tante associazioni per portare avanti un progetto futuro, un progetto per dei ragazzi e che quindi sia un progetto per tutti. Allora cominciamo a dire che cosa ci sarà nel futuro? Nel futuro ci sono tanti altri progetti, innanzitutto uno dei tanti sarà l'assistenza alla comunicazione per i ragazzi e i bambini sordi, quindi un progetto proprio ammirato per questi ragazzi perché io come altre colleghe che fanno comunque parte dell'associazione del sorriso e di questa rete siamo assistenti alla comunicazione in LIS, quindi lavoriamo nelle scuole con i bambini e i ragazzi sordi insomma dalle materne alle superiori. Ci saranno dei progetti che riguardano i laboratori d'inglese, ci saranno dei progetti anche per l'italiano agli stranieri, per i diritti minimi degli stranieri, insomma ci sono tante cose che via via speriamo di riuscire a realizzare un po' alla volta, pian pianino, ma sicuramente ce la faremo. Allora qui invece abbiamo ancora un'altra associazione, abbiamo sentito, tu sei? Katia Bardelli dell'associazione Nuovamente. In questo caso inseriamoci dentro questo progetto anche con te. Esatto e come diceva Faustina prima, questo progetto nasce da una chiacchierata appunto, una chiacchierata in palestra, due persone che si incontrano e che si mettono a parlare di se stesse, di quello che fanno, delle proprie passioni e al di là del fatto che lei è presidente dell'associazione Crescere e io sono la presidente dell'associazione Nuovamente, in comune abbiamo la passione per i ragazzi e quindi da questa passione è nato questo progetto. Quello che diceva Faustina è importante perché è un sogno che si realizza, in realtà è stato sempre il nostro scopo quello, lavorare affinché questa cosa venisse realizzata. Sono Lapo Gianluca, lavoro da poco come progettista all'interno dell'associazione Il Sorriso, ci stiamo occupando di allargare diciamo le progettualità dell'associazione anche nei campi diciamo un pochino più esterni all'attività che abbiamo svolto di solito, Il Sorriso si è sempre occupato di scuole ma anche di assistenza agli anziani. Stiamo cercando invece di fare dei progetti e per questo io almeno penso di essere qui, di cercare finanziamenti attraverso bandi appunto dei vari enti locali per avere risorse per lavorare nel campo ad esempio della riduzione dell'incidentalità da uso di sostanze e abuso di sostanze. Allo stesso tempo abbiamo dei progetti appunto come dicevano prima in ambito di integrazione degli stranieri appunto oppure altri bandi che dovrebbero servire anche per arricchire questa struttura di Susi Milla con progetti anche di educazione alla manipolazione dell'immagine con l'utilizzo di strumentazioni digitali. Insomma c'è tanta carne al fuoco, molte cose c'è da lavorare. Bene, allora partono i progetti, ricerche anche di finanziamenti e di sostentamenti in questo caso ma con tante competenze e professionalità. Tra queste c'è anche naturalmente Ilaria Righetti. Parliamo subito di Susi Milla perché ho detto io qui abbiamo un bel librettino che naturalmente potreste anche richiedere anche voi così magari contribuite anche a finanziare, lo dico io questo. Fiabe per grandi e piccini. Però Susi Milla è questo centro in pratica e questa naturalmente è la cosa importante. Parlavo prima di competenze per far comprendere anche che qui non ci si improvvisa ma come ha detto lei ci sono veramente tante professionalità. Certo, tutte le attività inizieranno nel primo pomeriggio e praticamente saranno coinvolti educatori professionali e soprattutto logopedisti e ci sarà sempre l'assistenza di una psicologa. Le attività che verranno dopo saranno tutte organizzate da gente comunque esperta tipo la danzaterapia eccetera, quindi tutti i professionisti nel campo che si occupano non soltanto dello sport in sé per sé o comunque delle attività ma anche di agevolarlo e quindi calzarlo per tutti i tipi di bambini che verranno qui. Senti, me lo presenti questo signore che è qui accanto a me? Lui è il grande Maurizio Roveri, lui è il grande. Buonasera. Sorriso nasce nel 2000, io arrivo qua nei primi mesi del 2004. Ho fatto tutta tra virgolette la gavetta per cui ho fatto un po' di volontariato poi sono diventato un dipendente. Adesso mi occupo di selezione, di formazione, di progettazione. Mi sta dando una grossa mano l'Apo che è l'ultimo arrivato solo in ordine cronologico. Da tre mesi e mezzo, quattro, c'è questo nuovo modus operandi dell'Associazione Sorriso che è quello di fare rete e cercare anche di andare incontro alle esigenze cittadine anche proprio a livello più materiale, economico. Nel senso che se il servizio è quali quantitativamente buono, è alto, si cercherà di abbassare un certo tipo di retta in che modo? Provando a utilizzare altre forme di professionisti. mi viene a mente il tirocinante universitario, il giovani sì piuttosto che il civilista e sono tre metodologie che l'Associazione Sorriso non aveva mai sposato. Per cui è chiaro che nel momento in cui tu hai un laureando, un diplomando o un volontario che ti viene a dare manforte, ovviamente il rapporto numerico operatore-bambino diminuisce e comunque resta l'obiettivo ultimo di lavorare insieme verso certi obiettivi. Come vi si raggiunge? Come vi si trova? A parte che siamo in via Baracca numero 38 ad Arezzo, nella strada che conduce da Via Calamandrei naturalmente all'aeroporto, però in realtà molte volte cerchiamo tutto su internet e facciamo subito una ricerca veloce. Allora, abbiamo la fanpage su Facebook, Associazione Sorriso Onlus Arezzo, 0575 90 85 33 è il Telefax, a giorni sarà online il nuovo sito e poi provvisoriamente, dobbiamo ancora decidere il dominio del sito, però provvisoriamente ci potete trovare a Associazione Il Sorriso Onlus, chiocciolagmail.com. Perfetto, credo che ci siamo con queste avventure che possiamo andare avanti e naturalmente questa serata inizia proprio adesso perché ci sono tantissimi ospiti, tantissime persone, forse già di gente che vi conosce molto bene in questo caso, che ha avuto l'opportunità di avere anche un sostegno da parte vostra. Una cosa importante, mi è piaciuta quello che ha detto prima Maurizio, cioè il fatto della formazione. Qui nessuno è improvvisato. Assolutamente. Qui ci sono psicologhe, pedagogiste, educatori professionali. Io sono uno psicologo del lavoro e dell'organizzazione, per cui il gruppo è veramente tosto. Tutto questo per dire che quando naturalmente diamo dei bambini in mano ad altre persone ci dobbiamo fidare, dobbiamo essere sicuri al 100%. Per finire volevo dire un'altra cosa, che insieme all'Associazione Il Sorriso e altre associazioni di cui abbiamo fatto rete, facciamo anche formazione. Abbiamo fatto già un corso per animatore sociale, che era tutto gratuito, quindi per gli operatori. Adesso stiamo facendo, è già partito da due settimane, il corso per in comunicazione alternativa. è sempre aperto agli educatori che vogliono avvicinarsi appunto a questo mondo. Ma pensate semplicemente anche alle insegnanti, ma pensate sempre anche ai genitori, che qualche volta potrebbe essere veramente un insegnamento importante. Perché se il vostro bambino naturalmente è un bambino normalissimo, tranquillo, non ci sono problemi, ma vivere in una società dove naturalmente ognuno con le proprie problematiche comunque dà un supporto, e in questo caso forse si comincia a vivere meglio se si capiscono e si insegnano e si fanno comprendere. Grazie. E tra l'altro il 7 novembre, sempre con la rete di associazioni, facciamo un corso con il patrocino dell'ASL, finanziato dal CESVOT, che si chiamerà la bottega del possibile su disabilità e adolescenza. Perché è un problema che viene spesso sottovalutato, ma anche i bambini con disabilità hanno la fase dell'adolescenza uguale a tutti gli altri, quindi con tutti i problemi che ne scaturiscono. Quindi il 7 novembre, per chi avesse voglia di venire a ascoltare altre professionalità, perché lì ovviamente ci parlano psicologi e direttivo dell'ASL, a San Donato c'è questo convegno.